La seconda edizione del Venice Climate Camp in programma a Lido dall'8 al 12 settembre si farà. Gli organizzatori sono alla ricerca di una sede che consenta l'iniziativa di svolgersi in piena sicurezza, anche rispetto ai protocolli di anticontagio Covid. Il demanio ha vietato l'uso della batteria cabianca, ma l'organizzazione, come ci ispira al telefono l'attivista Marco Baravalle, non si ferma. Il Climate Camp è confermato, vista la curva dei contagi stiamo però riflettendo sia sulle location che sulle modalità, perché a noi interessa fare una cosa che sia assolutamente sicura. Tra poco quindi comunicheremo sia l'una, cioè la location, che l'altra le nuove modalità per fare una cosa in sicurezza. Entro breve si sapranno i dettagli. Lo scorso anno gli attivisti riuscirono a conquistare anche il red carpet della mostra del cinema. E anche tra pochi giorni non sono da escludere nuove sorprese. La mobilitazione sui cambiamenti climatici va avanti.